Nel suo tour fra le province marchigiane, la regione sceglie la Mediateca Montanari di Fano come location designata per presentare alle province di Pesero Urbino il fondo nuovo credito. Fondo partito a gennaio con una dotazione di 20 milioni di euro già richiesti integralmente dalle imprese in due mesi di apertura e ora rifinanziati con altri 9 milioni e mezzo che serviranno a completare le domande rimaste in evase, aprendo altre opportunità a sostegno non solo del credito ma anche della capitalizzazione di impresa, del settore energia e di quello agricolo. Un bando da oltre 20 milioni di euro dove c'è una copertura a fondo perduto del 30% o 20% a seconda se piccole e medie imprese o grandi imprese e del 70% o 60% a seconda appunto sempre se PMI o grandi imprese per quanto riguarda proprio lo strumento finanziario. Per arrivare per le PMI addirittura a una copertura del 100% a fondo perduto, tasso zero di interesse quindi importante perché vogliamo sostenere e sviluppare delle politiche energetiche di sostenibilità ambientale fondamentali soprattutto per le nostre imprese in questo momento. E in più anche sempre strumenti finanziari a sostegno di altri interventi come quello sull'internazionalizzazione, sulle start-up e la novità assoluta anche sull'agricoltura. Quindi entro la fine dell'anno uscirà un bando per sostenere dal punto di vista proprio di agevolazioni, strumenti finanziari, bancari, anche il settore agricoltura negli investimenti ed è veramente una grande grande novità. Dai dati che ci hanno trasmesso la Banca d'Italia relativamente all'anno 2023 c'è una caduta degli impieghi bancari nei confronti delle imprese e dico anche soprattutto delle piccole e medie imprese. Un dato su tutti, pensate che a tutt'oggi su 225 comuni delle Marche, 70 comuni non hanno più uno sportello bancario. Questo è un dato allarmante. Altra cosa che volevo dirvi, noi a gennaio di quest'anno siamo usciti con una misura per il credito, quindi abbattimento del tasso di interesse, il 4% a carico delle regioni e il resto alle imprese e il costo della garanzia a nostro carico. Abbiamo messo a disposizione una somma di 28 milioni, 3, 20 milioni come vi ho appena detto con un bando che è uscito a gennaio, gli 8,3 però abbiamo cambiato destinazione perché usciremo con un bando a cavallo tra dicembre 24 e gennaio 25 sulla capitalizzazione. Però siamo riusciti dai fondi che ci sono rientrati dalle garanzie e anche da alcune economie a emanare un bando che emaneremo a metà, fine settembre, per 9 milioni e 700 mila euro. Questo è un bando importante, è un bando che sicuramente aiuterà non solo le nuove domande ma soddisferemo le imprese che nel bando di gennaio erano rimasti fuori per mancanza di finanziamenti. Pensate che siamo usciti con il bando al 29 gennaio, a metà febbraio già erano arrivate 2 mila domande che superavano i 20 milioni di euro che avevamo messo a bando e con questa misura di 9 milioni e 7 noi riusciremo a pagare tutte quante le domande che erano state in evase. Devo dire che già da consigliere regionale ho seguito la prima tranche dei 20 milioni sul credito che è stata una grande risposta che la regione ha voluto dare alle piccole e medie imprese. Oggi presentano la seconda tranche con ulteriori 10 milioni all'interno della programmazione 21 e 27, quindi un modo per dare aiuto alle piccole e medie imprese che sicuramente vivono un periodo difficile ma che la regione marca attraverso i fondi europei riesce a dargli una risposta importante. Io come sindaco oggi del Comune di Fano ringrazio la regione per aver scelto questa sede ovvero la Memo, la Mediateca Montanari, per presentare alle aziende, alle imprese e cercare anche di cogliere eventuali suggerimenti proposte per migliorare i bandi. La nuova tranche di bandi arriva sull'onda del forte riscontro positivo registrato nelle imprese marchigiane verso questo tipo di opportunità. Siamo la quarta regione in Italia sul Port Feser, la seconda sulle FSE, su fondi strutturali e su fondi di sviluppo nella nuova programmazione per quantità di risorse immesse nei bandi ma lo siamo primi in assoluto in Italia nel rapporto al numero degli abitanti e al numero delle imprese. Quindi la regione marca è prima regione in Italia a sostenere attraverso i propri bandi le imprese perché sappiamo che è fondamentale preparare ora quel percorso che poi si tradurrà ovviamente in progetti realizzati nei prossimi mesi per aumentare quel grado di competitività assolutamente fondamentale oggi per le imprese per stare sul mercato in maniera stabile e strutturata.